Buongiorno, grazie a Giorgio per questa opportunità che mi viene ridata. Allora, io parlerò di un nuovo paradigma. Perché? Perché vedete, io sono un medico, ma prima di essere un medico vado verso questa lavagna perché avrò bisogno di farvi dei disegnini. Sono un fisico e quindi mi sono domandato se tutto ciò che avviene, e che ci ha brillantemente spiegato anche il mio amico Biava, ma avviene come mai avviene? Cioè c'è effettivamente quello che per noi medici risulta la base di tutto, ovvero la biochimica, o c'è qualche cosa che noi non sappiamo e molti biochimici non sanno? Ma le reazioni che avvengono nell'organismo umano, avvengono. E avvengono al momento giusto e al tempo giusto. E allora mi sono domandato, ma com'è possibile? Perché, guardate bene, se io ho prurito il naso, il mio braccio deve necessariamente spostarsi, muoversi, inclinarsi, far vedere che il mio dito punta verso la punta del naso e io mi gratto il naso. Quante reazioni biochimiche avvengono perché tutto questo avvenga in tempo reale, perché devo grattarmi il naso adesso io? E badate bene che se le reazioni biochimiche non fossero corrette, il rischio è che io mi gratto il collo, ma io non ho bisogno di grattarmi il collo, ho bisogno di grattarmi il naso, mi prude il naso. E quindi mi sono posto il problema. Di dire, ma queste reazioni biochimiche, chi è il regista? Ma chi può governare alla velocità della luce? Perché ho bisogno di grattarmi adesso, quindi mi gratto. Chi può essere questo regista in grado di fare incontrare tutte le n molecole che, dal loro incontro, mi permettono di arrivare a fare quello che vi ho detto? Punto di domanda. Beh, c'è stato un medico importante, più che medico forse era un biochimico, anzi lo era sicuramente. Pensate che nel 1937 questo signore, che si chiama Georgi, ha preso il Nobel, ma non perché l'ha dimostrato, perché poi la dimostrazione arriva da noi e arriverò. Aveva ipotizzato che se le molecole si incontrano in quel modo lì, non può essere un incontro casuale. E lui cosa ha ipotizzato? Ha ipotizzato il ruolo dell'acqua e poi ha detto, ha preso il Nobel, non ha dimostrato, e poi ha detto, dentro l'acqua ci deve essere qualcosa che permette alle molecole di incontrarsi al momento giusto, al tempo giusto, per fare la reazione giusta. E che cosa ha ipotizzato? Gli amici medici, solo medici, ha ipotizzato il campo elettromagnetico dentro l'acqua. Beh, noi siamo fatti di acqua, eh? Sì? Eh certo, il nostro, diciamo che il peso dell'acqua incide al 70% del peso corporeo. Ecco, io peso 70 erotichili, bene, il 70% è acqua. Ma se io conto le molecole dell'acqua, le molecole dell'acqua, H2O, pesano poco rispetto a tutto il resto. E sono il 99%. E noi medici continuiamo ad occuparci delle reazioni che avvengono, che interessano l'1%. E dimentichiamo il 99% del ruolo dell'acqua. Allora io, insieme a molti amici, che purtroppo oggi non ci sono più, fisici, che si sono occupati di un problema che non è da fisico. Il fisico studia le alte energie, studia come andare sulla luna, studia la struttura della materia, studia questo il fisico. Pochi fisici entrano nel corpo umano, nella biologia, nello studio della biologia, pochi. Ma preparata, è meglio del giudice, chi vi parla ed altri, e hanno cominciato a lavorare. Io sono un fisico e sono un medico, quindi ho avuto questa grande fortuna. E a questo punto ci siamo messi a studiare per vedere se è vero che le molecole si incontrano al momento giusto, al tempo giusto, portate dall'acqua. Che cosa succede nell'acqua? E guarda caso, vediamo se nell'acqua veramente si genera un campo elettromagnetico. O, l'acqua è un conduttore, ma neanche per sogno, è un isolante, ma neanche per sogno, sta tra gli isolanti e i conduttori. Perché? Perché se voi studiate l'acqua, adesso ve lo dico io da fisico, l'acqua oscilla, ovvero che fa questo movimento. Ovvero, l'acqua si trova in due condizioni, quello che noi fisici chiamiamo di minima energia, in cui gli elettroni, H2O lo sapete tutti, in cui gli elettroni sono vicini al nucleo e in questa posizione in cui gli elettroni potrebbero, potrebbero, uso il condizionale, essere disponibili ad essere utilizzati. Ma perché dico questo? Perché tutte le reazioni che vengono nel corpo umano si chiamano di ossidoriduzione, ve lo ricordate tutti. E cosa vuol dire ossidoriduzione? Vuol dire che qualcuno deve metterci gli elettroni. E chi glieli mette? Ah, chi glieli mette potrebbe essere l'acqua. Certo, quando? E quando si trova in questa posizione in cui c'è elettroni disponibili per fare le reazioni. Ecco il nuovo paradigma. Certo, parliamo forse di linguaggi diversi, ma che permettono a molti di voi, con delle persone in grado di farveli capire in maniera semplice, cose alle quali voi non avete pensato. Bene. Allora, l'acqua, diceva Georgi, gioca un ruolo importante. Bene. Mi fermo qua. No, come fanno a incontrarci le molecole? Ma mi fermo per farvi vedere una cosa. Ho portato uno strumento, uno strumento banale che tutti voi conoscete, guarda. Questa è una forchetta, si chiama di Apason, lo conoscete tutti, eh. Se lo eccito, guarda. E mette un suono, certo. Questo suono è dovuto alla vibrazione meccanica di questo braccio. Bene. Poi ho portato un altro di Apason. Guardate, è lo stesso, identico, preciso, ha le stesse dimensioni, è fatto nello stesso modo. Lo faccio, lo eccito. vibra esattamente come questo. Ma perché ho portato questi strumentini? Per farvi vedere una cosa importantissima. è un concetto importantissimo. Io eccito il primo, guardate, lo blocco. Che è successo? Sento il suono dell'altro. Ma io ho eccitato questo. Facciamo la riprova? Eccito questo. Questo concetto si chiama risonanza. Che vuol dire risonanza? Vuol dire che io eccito un sistema, questo, di Apason, lo blocco e risuona questo. Risuona questo perché? Perché vuol dire che tra questo e questo, come voi sapete, c'è aria, certo. Vuol dire che l'aria viene messa in moto a causa della vibrazione di questo, io blocco questo, ma vibra questo. la condizione però che ciò accada è che i due sistemi siano esattamente uguali. A cavolo. Ma il corpo umano, che è un sistema complesso, è fatto, secondo voi, da elementi risonanti? Ma che cavolo dico? Ma questo è fantascienza. Ma qual è risonante? E adesso io vi faccio vedere che invece ci sono elementi risonanti. Ma noi medici sappiamo che sono elementi risonanti? Ma neanche per sogno. Ma neanche per sogno. Perché nella facoltà di medicina qual è la parte di biofisica che ti permette di dire quello che io sto dicendo? Non c'è. Ma badate bene che se io fosse venuto in questa stanza con una radio che tutti voi conoscete e usate, la radio è caratterizzata da due manopoline. La prima che vi permette l'accensione della radio e vi dà il volume. l'altra è quella che noi fisici chiamiamo della sintonia. E allora cosa fare io? Non l'ho portata. E se accendo la radio e giro la manopola della sintonia io sento la musica che arriva da radio gamma. ma se io sposto questa manopola della sintonia sento Milano International. Ma se io l'ho sposto sento Radio Maria che la sento da tutte le parti. Oh! Ma voi state sentendo la frequenza di Radio Maria di Radio Gamma di Radio Milano International ma quando mai? Ma la radio sì. e attraverso la radio io sento le varie frequenze che sono qui dentro. Quindi noi siamo circondati da frequenze che non sentiamo e non risuoniamo perlomeno. Sembra che non risuoniamo. Sembra. Ma la radio ha dentro un circuito risonante sulla frequenza di Radio Gamma Radio Maria Radio Milano International. Ma se io arrivo qui con una televisione accendo e vedo Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rai 4 cosa è? Ma noi davvero qui dentro siamo circondati da frequenze e cosa vuol dire da frequenze? Siamo circondati da campo elettromagnetico la cui frequenza è quella di Radio Gamma di Radio Milano International è di Radio Maria. Quindi noi qui comunque siamo immersi in un caos di onde elettromagnetiche che non sentiamo che non vediamo che non percepiamo o perlomeno pensiamo di non percepire. E allora io mi sono domandato va bene ma cosa c'è dentro la radio che mi permette di dire che c'è un circuito risonante su quella frequenza? Te la faccio vedere io. Ovviamente non vi faccio una lezione di fisica ma qual è il circuito interno alla radio che mi permette di fare quello che vi ho detto? Guarda un po'. Un filo avvolto che si chiama bobina e la cui il cui valore è L. quindi un filo avvolto un volgare filo che voi prendete elettrico e lo girate così fa la bobina. Bene. E poi guarda un po'. Sta' attento eh. Cos'è quella roba lì? Sono due piastre parallele messe così che collegano l'estremità del filo della bobina di qua questo si chiama condensatore C. Ho detto non vi faccio una lezione di fisica ma se questo condensatore fosse variabile ovvero quando io giro la sintonia che cosa succede? Ah te lo spiego. fregatevi della formula che vi faccio vedere io eh. Ok. Questa è la frequenza. Cos'è quella roba lì? è chiaro che se io vario C varia in questa formula che fregatevene varia la frequenza. Ovvero girando la manopola della sintonia e quindi cambiando il valore di C perché io lo avvicino lo allontano quindi C cambia e a questo punto ovviamente è in grado quel sistema lì di acquisire la frequenza di radio gamma eccetera. Ah bene. Molto bene. Allora faccio un passo indietro per dirvi due cose importantissime anzi tre cose importantissime. La fisica fino a cento anni fa era una fisica che noi ritenevamo perfetta. Dogmi formule è arrivato un fisico importante ma badate lo scelgo perché non era un fisico era un gruppo di fisici importanti che avevano già ipotizzato qualche cosa che non poteva come dire essere instradata nel campo della fisica classica. Questa si chiama fisica quantistica. Arriva Einstein che ho detto rappresentante di tutti gli altri il nome forse più noto anche se gli altri non scherzavano neanche loro come notorietà ma Einstein è arrivato e ha detto cari colleghi voi siete in effetti colleghi dell'università io in questo momento sono nelle spoglie di Einstein arriva e dice colleghi ho pensato che ci sono delle cose che vanno modificate nel campo della fisica perché la massa qual è la massa guarda c'è in mano con una penna questa penna io la sto sostenendo ho fornito energia alla penna perché se io lascio la mano cade per terra e allora la massa per la fisica classica è legata al peso di questa penna quindi il peso e la massa sono due grandezze una è una forza ecco cade per terra la massa è invece fregatemi della formula è il peso diviso l'accelerazione di gravità ma non ce ne frega niente vuol dire che questa penna ha peso e quindi ha massa questo ha peso e quindi c'è una massa diversa bene certo questa è la fisica classica arriva Einstein e dice momento guardate cari colleghi le persone che dicono sempre qualcosa di nuovo quindi modificano il paradigma vengono considerati fuori di testa perché è chiaro che io vi dico delle cose nuove e parlo un linguaggio da medico a medico ma introducendo concetti profondamente diversi e questo cosa è la massa è una forma di energia la massa è una forma di energia la massa è una forma di energia vuol dire che questa penna che ha massa rappresenta un'energia sì ovvero l'energia può essere vista come forma di massa primo concetto secondo concetto che i medici devono mettersi in testa ma se io studio un sistema complesso fisica classica un sistema complesso e io prendo un pezzo di quel sistema lo porto fuori lo guardo lo osservo lo studio e no no fai un sacco di errori perché faccio un sacco di errori scusa eh ce l'ho qui l'ho studiato lo vedo lo taglio lo seziono vedo l'interno no perché perché non tieni conto del fatto che le interazioni degli altri elementi che compongono il sistema fanno su quell'elemento corpo umano posso io studiare il fegato me lo tiro fuori lo guardo lo palpo lo vedo sì lo puoi fare certo ma fai degli errori perché il fegato inserito nel corpo umano è a lei e subisce e interagisce con tutti gli altri seconda considerazione la terza considerazione è la più bella che è questa devo togliere l'acqua ma non bicchiere questo bicchiere è vuoto quindi il vuoto per noi fisici vecchi è il vuoto non c'è dentro niente faccio un esempio più bello il vuoto è una notte buia che più buia non si può vado a sbatterne da tutte le parti per la fisica quantistica qui badate bene cosa dico per la fisica quantistica il vuoto è una notte buia che più buia non si può che ha dei flash di luce dei flash di luce sì hop come se fosse delle stelle cadenti hop ma allora vuoi dire che dal vuoto nasce energia sì nasce energia e questo cosa vuol dire vuol dire e questo è un concetto importante che la vita comunque al di là di tutte le cose che la vita ci fa vedere la vita andrà avanti nel tempo dopo di noi dopo di noi dopo di noi dopo di noi perché perché dal vuoto nasce l'energia voi capite bene che questi sono tre concetti stravolgenti stravolgenti perché allora allora vi faccio riflettere ma io che sono un medico e vedo che c'è qualcosa che non va ad esempio non so transaminasi mosse cosa mi viene in mente transaminasi mosse ah che c'è qualcosa al fegato va bene cosa gli fai fare tu da medico e gli farò fare l'ecografia sì giusto no l'ecografia non mi convince troppo fagli fare l'attack dai fagli fare l'attack facciamo l'attack ottimo non ti convince neanche l'attack fai la risonanza fai la risonanza ma tu cosa stai andando a esaminare il fegato ma quale la massa la massa del fegato noi medici andiamo sempre solo analizzare le masse ma scusa Einstein non ti ha detto che la massa è una forma di energia beh allora perché non vai a vedere la sua energia e come faccio mentre di là l'ecografia sono ecchi l'attack sono raggi x la risonanza sono variazioni di campi elettromagnetici l'energia l'energia devo trovare un sistema in grado di captare l'energia perché se in quel fegato lì c'è anche una massa diversa rispetto al complesso del fegato vuol dire che ci sono due energie un'energia emessa dal fegato buono e un'energia emessa da una massa cattiva ah questa è una cosa molto importante ah certo se io avessi la possibilità di indagare sull'emissione di energia ma allora adesso ti faccio uno scherzo ritorno alla lavagna e arrivo poi dopo alla parte epigenetica perché vi ho introdotto i concetti di biorisonanza sono partito da quella lì sono andato alla radio alla televisione ai telefonini che avete e arriveremo alla nostra biorisonanza allora io faccio il medico voi fate i medici i miei colleghi qui autorevoli fanno i medici mi diverto a farvi vedere mettendo una coppia di elettrodi sul torace per vedere che cosa fa il cuore allora questa è la corrente messa dal cuore è vero è vero che il cuore mette corrente quel grafico che voi vedete quando fate l'elettrocardiogramma non è l'attività di corrente cardiaca sì ok ve la disegno è fatto così guarda un po' poi fa un bel picco grande così poi fa un picco negativo poi hop rifà il picco e ritorna così questo è il tempo badate bene che il tempo l'asse del tempo che è orizzontale o l'asse delle frequenze è esattamente uguale vabbè è elettrocardiogramma e cosa fa il mio cardiologo il cardiologo dice no guarda guarda la forma di questo guarda soprattutto la frequenza che cos'è la frequenza è il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo l'unità di tempo è un secondo quindi se questo fosse un secondo io dico che il mio cuore ha una frequenza di due hertz la misura della frequenza si chiama hertz beh e cosa fa il mio cardiologo ma guarda se vedo che qui c'è un picco che vi tratteggio così ai 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 quello lì c'è una ritmia ma non è questo che voglio dirvi non è questo allora io faccio il fisico ancora una volta e dico ma come questa è una corrente sì allora c'è una corrente la corrente provoca campo magnetico sì è una legge fondamentale della fisica non ci credete vi faccio l'esempio spegniamo le luci di questa roba qua di questa sala arrivo con una bussola la bussola voi sapete che a questo punto mi dà l'indicazione di dove è il nord e quindi il sud l'est e l'ovest va bene va al nord eccolo là è di lì il nord boh sì lago mi dice che è di lì accendiamo la luce oh si sposta lago ma come ha cambiato il nord sì ha cambiato il nord perché perché la luce genera la corrente che serve per andare ad accendere tutte le lampadine che ci sono qui dentro produce campo magnetico e quindi la mia bussola si sposta allora te la applico eh no come fai guarda prendo questa ui da ciao prendo questa collega gli avevo fatto l'elettrocardiogramma nel senso gli avevo messo due elettrodi eccola là posso fare il magnetocardiogramma a lei ma no non puoi farlo perché non puoi farlo e perché ci sono i campi magnetici del microfono del computer dei telefonini che voi avete spento ma ce l'avete in tasca e quindi allora ti devo fare una gabbia la gabbia quella che noi utilizziamo anche negli ospedali nel senso nazionale si chiama gabbia di farete è una gabbia tipo la gabbia del canarino ecco te la faccio guarda parto di là faccio così parto di qui e la chiudo poi dico alla dottoressa dottoressa per piacere vuole io sono fuori dalla gabbia ho uno strumento di verifica per vedere se dentro lì c'è campo magnetico la risposta è no zero poi entra lei va là si accomodi sulla seggia guardi io sempre sono fuori so la frequenza dei suoi impulsi cardiaci e cosa vado a vedere c'ho un registratore e vado a vedere questa cosa che vi disegno in rosso guarda un po' cosa succede oh la miseria cos'è che vedo 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 che il campo elettromagnetico generato dal suo cuore e che io ho misurato è esattamente quello che io avevo visto nell'elettrocardiogramma ma con un'intensità molto maggiore orcolo ma voi avete capito cosa vi ho detto perché io quando faccio l'elettrocardiogramma sono qua il suo corpo è questo gli metto gli elettroli qua ma se io ho misurato fuori dal corpo sono qui io e adesso allungo la gabbia vado fuori vado al di là di questo muro sono fuori dalla gabbia e ricevo ancora i segnali del suo cuore certo ma allora ditemi un po' medici colleghi ma dove sta il corpo ma lei sta irradiando la risposta è sì lei sta irradiando ma se io vi prendo il cervello ah il cervello c'è una forma diversa eccola qua guarda l'emissione del cervello è fatto così guarda un po' addirittura se qui ci fosse un'onda che fa in questo modo questo c'è un attacco epiletico mentre gli faccio bene e a questo punto io sempre sono fuori dalla gabbia guarda un po' il cervello cosa gli fa esattamente questo opp allora il suo cervello irradia il suo cervello irradia io sto irradiandovi sicuro voi uscirete di qui forse non convinti al 100% anche se io mi sforzo di convincervi al 100% ma sicuramente qualche cosa vi lascio in testa sono riuscito a fare un po' di confusione sono riuscito a darvi molti punti interrogativi molta difficoltà di interpretazione molta poca fiducia o tanta fiducia però lei irradia e quindi io posso vedere l'energia quando uno dice irradia c'è corrente e la corrente è lì vuol dire che l'organo cervello l'organo cuore genera energia la domanda la domanda che mi pongo è il fegato no il pancreas no il polmone no la c1 no la c2 no la s1 no la s2 no si 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 qual è la differenza però che mentre l'abbiamo studiata l'elettrocardiogramma l'abbiamo studiato abbiamo fatto l'esame certo non abbiamo parlato del magnetocardiogramma il cervello l'abbiamo studiato abbiamo dato l'esame e abbiamo visto i segnali emessi dal cervello certo non abbiamo visto il magneto ma a questo punto qual è la differenza è la differenza che mentre lì l'interpretazione è chiara perché l'abbiamo studiata nel caso dell'emissione di un segnale proveniente dal corpo umano che è la somma dei segnali che arrivano dal fegato dal pancreas dall'intestino dai polmoni eccetera per ora non sono ancora decifrabili per ora allora che cosa manca nella conoscenza del corpo umano no manca questo guarda e arrivo all'ass drive manca questo ecco qua il corpo umano va che bel disegno che ho fatto il corpo umano è rappresentato da n circuiti risonanti che si disegnano in questo modo esattamente come quelli della radio eccoli qua questo questo a frequenza uno questo a frequenza due questo a frequenza tre questo a frequenza quattro questo a frequenza cinque puntini puntini questo a frequenza N. Allora ci manca anatomia sì, fisiologia sì, patologia sì, ci manca un manuale che ci dica esattamente la frequenza di risonanza di ogni organo. E allora arrivo. Ragione biava, l'epigenetica è qualcosa di nuovo, ma è qualcosa che ci potrebbe dare elementi importantissimi. Perché? Perché noi abbiamo problemi che sono legati all'ambiente esterno, abbiamo problemi legati all'inquinamento, abbiamo problemi legati all'alimentazione, abbiamo problemi legati all'amore o non amore, allo stress, all'incavolatura. E questo incide, accetto che incide. E allora io dico, interessante quello che ha fatto il nostro amico Carlos, perché? Perché? Perché lui ha fatto una cosa molto intelligente e ha detto. Ma scusa, noi siamo sistemi risonanti? Sì, te l'ho dimostrato. Allora, il cappello che io ti strappo è un indicatore biologico interessante per farne un'analisi un po' diversa rispetto all'analisi che noi generalmente facciamo. Io da direttore generale dei più grossi ospedali lombardi, quando siamo stati chiamati dalla questura, dai carabinieri, dalla finanza e abbiamo fatto una riunione perché il tema era come facciamo a identificare un drogato in maniera matematica? Ah sì, guarda, facciamogli fare, preleviamo l'urina. E ma come fai a prelevare l'urina? Eh, se quello gli dice, no, vado a fare pipì, no, non mi scappa. Non è che puoi obbligarlo. E non puoi neanche mettergli un catetere per dire, ti prelevo tre gocce di urina. No! Che cosa abbiamo convenuto? Abbiamo convenuto di prendere il cappello. Perché? Ah, perché è un tracciante biologico incredibile. Tiene a memoria, il bulbo, tiene a memoria tutto quello che quello lì ha fatto. E abbiamo convenuto che il sistema da utilizzare nell'interno degli ospedali, quando beccavano un drogato, era quello di dire, vai, ti prelevano i capelli e noi esaminiamo il cappello. Ah, allora il cappello è un tracciante biologico importante. E allora cosa ha fatto Carlos? Ha detto, bene, senti un po', siamo nello spazio, noi siamo uomini nello spazio, lo spazio ha tre dimensioni. Per noi fisici lo spazio ha n dimensioni, ma non voglio fare una lezione di fisica. Accontentiamoci delle tre dimensioni. Eccolo. E allora Carlos ha detto, senti, se facessimo una bobina che esce da quella lavagna, che fa così, poi una bobina che fa così e una bobina che fa dall'altra parte, noi abbiamo le tre dimensioni. Potremmo avere i riferimenti di un elemento biologico che è nello spazio, quindi noi siamo nello spazio a tre dimensioni e abbiamo le informazioni relative da tutte le parti, di lì, di qua, di là, di su, di giù. Bene, e cosa ha fatto lui? Non ha fatto altro che prendere la bobina che viene fuori così, la compressa a due dimensioni. Guarda, te la disegno. Allora, parto da fare la bobina compressa, eh? Partiamo di qua. Fa l'avvolgimento, gira così, gira così, gira così, gira così. Quando arriva qua, guarda cosa ti fa, inverte il senso della bobina, hop, 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 eccola qua. Allora ha piattito sostanzialmente delle bobine in grado di captare il segnale proveniente da un qualunque elemento biologico. Ha parlato del cappello? Qui ci sono due persone che vi parleranno dello sperma? Certo, lo sperma è un altro tracciante, l'ha detto lui all'inizio. Ha detto addirittura che era interessato perché? Perché aveva visto che sostanzialmente la differenza tra il cappello e lo sperma c'era una differenza che era quasi insignificante, magari più significante andando avanti negli studi, eh? Ma che sia il cappello, che sia qualche altra roba di biologico perché la saliva potrebbe essere un altro, certo. Potrebbe essere un altro tracciante. E allora che cosa succede nella cosa del mio amico Carlos? Eccola qua cosa succede, guarda. questo è il tempo, vi ho detto la frequenza, la stessa cosa, è questa l'intensità, io guardo voi, eh? Quindi non bleffo, eh? Sto guardando voi. Guarda cosa esce dal cappello. Guarda. Sto guardando voi, eh? E cos'è quello lì? Cos'hai disegnato? Che guardavi tutti voi e io l'ho disegnato. esce quello che noi fisici chiamiamo lo spettro di energia. E che cavolo vuol dire? Vuol dire che il cappello tiene conto di tutte le emissioni degli organi di cui è composto il corpo umano e che a questo punto io lo guardo e non capisco niente Spaggiari, non capisco proprio niente. Ma perché non capisci niente? Eh, perché non capisco. Cos'è questo? Eh, qui vedo che ci sono dei picchi di frequenza, sì è vero, guarda che ci sono delle ampiezze che variano. Ma vi devo dire che esiste un teorema fondamentale della fisica che si chiama teorema di Fourier, ma voi fregatevene di quello che vi sto dicendo. Ma l'importanza del teorema di Fourier è che qualunque segnale brutto, come quello che io vi ho disegnato, è sempre scomponibile in una serie di segnali belli, sinusoidali, che hanno frequenza diversa. Ah, bene. Allora mi hai già dato un'informazione. Tenetelo un attimo a mente. Perché? Ah, perché adesso faccio questo. Questo per noi fisici, quando in effetti il segnale continua ad essere così, si chiama segnale analogico. Voi sapete che i computer non sono in grado di memorizzare un segnale analogico. Ma il computer che cosa fa? Guarda. Questo segnale qui io te lo vedo come somma di punti, ve li disegno tutti in rosso. Eccoli qua. Eccoli. Eccoli. Poi basta, mi stanco e non ve li faccio più. Ah, beh, ma i punti? Allora sono delle informazioni digitali, il punto è digitale e quindi può essere memorizzato. Io memorizzo il mio cappello che ha quello spettro come successione di punti. Il computer me lo memorizza e via internet me lo manda dove volete voi, al di là del mondo. In questo caso ve lo manda in Germania. E cosa fa la Germania? Riceve questo spettro che non è interpretabile. lo scompone attraverso Fourier, ne fa la somma di tutte le onde belle, meravigliose, sinusoidali che sono rappresentative di quello spettro e guarda caso lo confronta con n spettri sviluppati di 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 milione. E che cosa fa? Ti rimanda, mi fa il confronto e dice ah, quello lì c'è un inquinamento atmosferico. No, quello lì, guarda, c'è una cosa importante. C'è un campo elettromagnetico di disturbo su questa gamma di frequenza, addirittura su queste gambe di frequenza. Ti dice ti mancano le proteine? No, ci sono troppe proteine. No, ti mancano aminoacidi? No, ce ne sono troppi. No, ti mancano altri elementi che sono fondamentali. Quindi non è un strumento di diagnosi, è uno strumento di previsione, di indicazione. Perché? Perché poi tu lo osservi, io te lo dico, oh, guarda che tu non devi prendere, non devi stare attaccata al telefonino, perché sei inquinata. E quindi ti do indicazioni necessarie perché nei 90 giorni tu segua quello che ti dico io, perché dopo ti ritiro via tre cappelli e a questo punto vediamo le cose come vanno. E come vanno? Vanno come vi dico io, migliori sicuramente. Ecco allora il nuovo paradigma. Vedere un aspetto della parte del corpo umano che non è più biochimico, ma è biofisico, e guardate bene, e ci tengo a precisare, la biofisica non è una cosa contro la biochimica, è sinergica alla biochimica, è l'altra faccia della medaglia. Quindi se io vi prendo due euro, vi dico, continuo a guardare questa faccia qua, sì, vene, l'amplifico, conosco i particolari, benissimo, ma gira anche la medaglia, gira la di qua, gira che c'è un'altra faccia. E badate bene che quella faccia lì, se io vi sezionassi i due euro e dicessi a uno di voi, toh, prendi questa faccia, vammi a spendere i due euro, non potete spendere i due euro, perché? Perché la persona dice, no scusi eh, ma guarda che manca la seconda faccia. Ah, manca la seconda faccia. E la seconda faccia è sinergica alla prima. Quindi, nuovo paradigma, vero tutto quello che ha detto il mio amico, vero, stravero, bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare strategia. La medicina del futuro sarà quella che vi ho raccontato io, ma noi medici ne sappiamo quasi niente. Quindi, la cosa importante è che ci siano persone in grado di far comprendere, anche se la lezione è durata troppo poco, ma almeno avere le basi per cominciare a capire in maniera diversa rispetto all'indirizzo di studi che noi abbiamo fatto. Grazie. 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 Grazie.